Ma buongiorno, recuperatrici e recuperatori di libri del passato. Oggi parliamo di un romanzo di Gianni Celati che si chiama La Banda dei Sospiri. Eccolo qui in una preziosissima vecchia edizione pubblicata da Einaudi. È una di quelle vecchie edizioni che prendono bene il pulviscolo. E ancora prima che dirvi che stile adotta o di cosa parla questo libro, sapete che cosa facciamo? Vi leggo una mezza paginetta molto esemplificativa dello stile di Celati e fa così. Siamo a pagina 59. saltava su a dire, come sta signor maestro oggi di testa? Perché nella sua teoria era appellato per questo, perché aveva studiato e letto troppi libri e non gli funzionava più bene la testa. Ogni mattina gli chiedeva così, e noi tutti a ridere e scorpacciarci perché il maestro non sapeva che replica dare. Certuni si aprivano la bocca con due mani per ridere di più. Altri facevano tutti dei gesti di andare nei matti, con le braccia per aria o tirandosi le orecchie. Così che lui si confondeva, anche perché molti andavano avanti a chiedergli dal banco, come sta signor maestro? Come sta? Come sta? Come sta? Gli giravano gli occhi dalla confusione. Ecco, allora, è un libro, è un romanzo su, diciamo forse la trasfigurazione degli eventi, della vera vita di Gianni Celati, ragazzino, quindi un romanzo di adolescenza, un romanzo di questo piccolissimo paesino perduto in mezzo al niente, con i suoi personaggi strani, caratteristici, un po' matti. Se vogliamo è un amarcord della letteratura, molto privato e molto personale di Celati. Ricordiamo, Celati è stato letterato e tra l'altro anche traduttore, ha tradotto anche l'Ulisse di Joyce per Einaudi, non moltissimi anni fa. Comunque è stato anche professore al Dams, figura centralissima, diciamo che per un periodo lui e Umberto Eco, erano forse le colonne, forse, passatemi il termine, le figure più pop di questa classe insegnante del Dams di Bologna. Gianni Celati, figura amatissima da Pier Vittorio Tondelli, anche abbastanza apprezzato da Andrea Pazienza, anche dall'altro scrittore Enrico Palandri, proprio molto molto amato da questo trio dei narratori, di questi straordinari narratori, Andrea Pazienza, Tondelli, Palandri, nati negli anni 50, che frequentavano il Dams. Negli anni 70. Celati ha scritto vari libri con approcci diversi. Lui ha sempre tenuto un approccio, diciamo, alla scrittura molto schietto, molto diretto, con quasi una totale assenza di arzigogolamenti. Cioè, o meglio, per intenderci, se per Vittorio Tondelli, giusto per fare un esempio, un paragone, se per Vittorio Tondelli è uno scrittore raffinatissimo, capace di gustosissimi passaggi letterari, no? Ecco, probabilmente Celati tutto questo non lo sa fare. Un po' l'avete visto anche nel pezzettino che ho letto. Cioè, ricerca questo linguaggio parlato, che sicuramente ispirerà anche tantissimo Tondelli, come poi ammette anche nelle sue interviste, così, per i primi libri, no? Quindi molto diretto, molto parlato, non raffinato. Tra l'altro, tra l'altro, sono rari i libri dove lo stesso autore è nel retrocopertino a scrivere qualche cosa sul libro, no? E quindi voglio leggere ancora due righe scritte proprio da Celati sul retrocopertino, quindi qua, e esemplificative, no? Perché dice? Dice, la famiglia è un po' come la malavita, con i suoi capi tirannici, le sue omertà, rivalità, gruppi chiusi. È un luogo concentrazionario come il manicomio, la fabbrica, la prigione, il servizio militare. Ecco, questa parola, concentrazionaria, è una parola molto anni settanta, molto uscita dal modo di parlare di oggi. Per esempio, mi è venuta in mente perché nelle postille di Umberto Eco, al nome della Rosa, anche lui dice, ho ambientato il nome della Rosa in una abbazia perché volevo un luogo concentrazionario, no? Quindi proprio parola, simbolo di una certa intelligenza degli anni settanta, forse appunto di ambiente bolognese, no? O comunque, appunto, tra Celati e Eco ritorna questa parola. E poi continua e dice, la famiglia è poi un teatro. È come uno spettacolo di varietà fatto di tanti numeri fissi secondo le specialità degli attori. Ha un comico principale, il padre, la sua spalla, la madre, e una serie di esercizi affidati ad altre maschere, i figli, i parenti. I vari numeri si ripetono uguali per anni e anni finché la compagnia si scioglie. Quindi, romanzo gustoso, carino, che ha momenti di ironia, molto leggero, nel senso, nessuna tragedia da strapparsi ai capelli, però appunto, quindi, romanzo godibile, ottimo libro per magari scoprire questo scrittore, che ricordiamolo, non ha scritto solo così, ha fatto altri libri scritti anche in maniera molto diversa, ma poi magari li rivedremo man mano in altri video. La banda dei sospiri, Gianni Celati, ottimo recuperino, e anche se la luce del giorno è ancora dolcissima, io vi ringrazio, vi auguro una bella buonanotte ciccetti. A presto.